Ciao a tutti, ho pensato di fare un altro video ASMR, so che ad alcuni di voi non piacciono assolutamente, però visto che altri di voi mi hanno chiesto di fare un altro video ASMR e visto che in questi giorni, come immagino sappiate già, sono in condizioni pessime, nel senso che ho l'influenza, quindi ho la febbre, ho mal di gola, ho la tosse, sono senza voce, ho un raffreddore che non mi dà tregua. Ho pensato di fare questo video perché non potrei farne altri sostanzialmente e poi comunque siamo a fine settimana, siamo a sabato, magari qualcuno è stressato un po' da tutta la settimana e gli fa piacere sentire questo tipo di video qui, insomma, così che si possa un minimo rilassare. Così ho pensato di provare a fare un altro video ASMR, mi devo però scusare con voi per un paio di motivi. 1. Scusate se mi vedete vestito da casa, tutto un po' spolinato, con una faccia strana, gonfia, ma purtroppo a me l'influenza crea questo, ho proprio due occhi abnormi e semi chiusi, sembro un droga, sembro di pre, sto naso gonfio, sta faccia gonfio, giuro, non riesco quindi a mettermi l'anello alle dita da quanto sono proprio gonfio in corpo, ma perché sono pieno di catarro, so proprio di merda varie, insomma, provo tanti complimenti per il video ASMR, si suppone che tu debba rilassare, anziché, come dire, far schifare le persone, termine che ho coniato adesso perché non esiste, ma vabbè. E poi mi scuso intanto perché siamo in un palazzo, sono in un palazzo, e se sentirete qualche rumore proveniente non da questa stanza, è proprio niente dal palazzo, ma purtroppo non posso farci nulla, il microfono è molto sensibile, cattura ogni minimo simbilo, per esempio questo è quello del piano di sopra che sta spostando la sedia, è continuo, e quindi purtroppo non posso farci nulla, si sentirà nel video, e in più oggi c'è un vento nella madonna, quindi se sentite è proprio frescito il vento, ma quello ad alcuni può anche farci nulla, poi cos'altro? Ah sì, la qualità di questo video sarà inferiore rispetto alle altre, questo perché sto riprendendo con la webcam, perché mi sono facilitato la vita, perché gli altri video che ho fatto ASMR mi sono ripreso con la videocamera, però questo microfono qui non si può collegare alla videocamera, bisogna passare dal computer, quindi cosa facevo? Mi riprendevo con la videocamera, ma registravo l'audio con il computer e con il programma che uso per incidere, fatto questo toglievo l'audio al video e mettevo l'audio del computer, e quindi poi mixavo tutto e sincronizzavo tutto, ma ero lavoraccio, insomma, e così ho pensato di facilitarmi un po' la vita riprendendo con la webcam, che comunque non mi sembrava così malvagia, però almeno l'audio è quello che è, insomma, perché ovviamente il computer riconosce questo microfono e quindi non ho bisogno di sincronizzare, lo putto così come è basta. Dunque, dopo tutta questa tiridera, comincerei a fare ciò che volevo fare in questo video, ovvero, oltre che del whispering, esattamente come sto facendo adesso, ho pensato di provare a fare del tapping, penso si dica così, insomma, a prendere qualche oggetto, qualche cosa che secondo me ha un suono particolarmente bello, particolarmente rilassante, e di farlo sentire a voi, sostanzialmente, e quindi comincerei con questo rumore qua, queste sono salmettine umide per le mani, o per qualsiasi cosa, insomma, quello che volevo fare, queste qui, e quindi... Se vedrete dei tagli in questo video, è perché mi sarebbe venuto o dato sì, o da star notire, anche perché, ultimamente, in questi giorni non sto facendo altro, quindi mi scuso anche per questo. e quindi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Penso che in teoria in questi video non si possono sparare le sorti minchiate che io sparo nei soliti miei video. Bisognerebbe mantenere una sorta di... non di decoro però, se questi video sono fatti per essere rilassanti, in teoria non è che puoi sparare stronzata a raffica, no? O comunque far ridere perché alla fine uno ride ma non si rilassa. E quindi non so mai che cosa dire per questo. Questa volta ho optato per questo tipo di rumori qua nella speranza che appunto possano rilassarvi perché ho visto dei video in cui la gente racconta quello che ha fatto in quel giorno stesso o comunque un po' quello che ha fatto nella vita ma oramai voi sapete quasi tutto di me. E se sapete quasi tutto è perché quel quasi io non lo voglio dire pubblicamente. Quindi insomma praticamente io tutto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto. E perciò non saprei che altro dire. Alcuni li sento contare al contrario ed è una cosa che a me in realtà manda i matti perché cioè a me rilassa tantissimo se non so quello che la persona sta per dire. Non so come... un po' come le canzoni. Io, voi sapete tutti, non vivrei senza musica però per rilassarmi io non devo ascoltare canzoni che conosco perché sennò nella mia testa le canticchio e quindi non mi rilasso affatto, anzi mi mi, cioè le canto sostanzialmente e così, scusate per il rumore, e così mi succede anche con ciò che le persone dicono se io so quello che già stanno per dire. Ho visto molti video ASMR americani e vedo molte persone che cominciano a contare da mille a tornare indietro. Ma mi fa venire troppo nervoso perché io so perfettamente quello che lei dirà dopo o lui dirà dopo, insomma, mille, novecentonovantanove, novecentonovantotto, novecentonovantasette, non mi rilassa assolutamente perché so quello che dirà e mi viene nervoso perché mi viene da ripetermelo nella testa, non lo so, io sono malato come al solito, scusate. E per questo questa volta ho optato per, visto che non avevo neanche voglia di leggere il libro e andare avanti con il libro, ma prometto, l'ho promesso, lo farò, quindi in un altro video ASMR lo farò. Adesso ho optato per farvi sentire qualche rumore e, niente, ve lo semplicemente spiegare questo, ecco. O se no ho visto, o se no ho visto alcuni video, più che altro stranieri, più che altro americani, ma non solo, in cui le persone fanno finta di parlare con una singola persona al di là dello schermo, un po' come se fosse nella stessa stanza, no? Ho visto una che faceva finta di essere il dottore, se l'ha proprio vestita la dottore, e faceva, buongiorno, come posso essere utile oggi, come si sente, come... Cioè, a me fa ridere, sinceramente, non so per quale motivo, mi fa ridere... Ops, scusate, ho tirato su quel tasso. Mi fa ridere, perché c'è... non lo so. Non lo so, è una cosa che mi fa ridere, dai, obiettivamente, su come fai a fare finta di avere qualcuno lì e di parlare con quella singola persona attraverso uno schermo, una webcam o qualsiasi cosa sia. Mi viene da ridere, insomma. Cioè, preferisco che parli o comunque spari stronzate, o comunque fai dei suoni con la bocca, no? Ci sono video ASMR dedicati solo al suono della bocca, tipo... Cose così, che ad alcuni dà fastidissimo. Perché a volte leggo dei commenti sotto quei video e c'è gente che assolutamente è contro sta roba. Anzi, so perfettamente che ad alcuni di voi non piacciono questo tipo di video, ma soprattutto il rumore della bocca o comunque della saliva che si sente, no? Perché alla fine è così. E però, in realtà, a me rilassano tantissimo. Cioè, a me rilassano proprio tanto, quindi non farò rumori con la bocca particolari, perché mi sento un cretino a farli. Però, a me sentire le persone che mi sbigliano, anche sentire me stesso, amplificato, con gli auricolari, no? Perché sento la mia voce limpida, voi sicuramente sentirete un brusso di sottofondo. Non so per quale motivo succeda questo. Io in realtà mi sento limpidissima. Avete sentito quel sibilo? Era il vento. Oggi c'è un vento assurdo. E a me rilassa tantissimo anche sentire me stesso. Per esempio, ecco, per quale motivo pensavo anche di fare questo video in questi giorni qui, che invece... che invece sono tutto, perché ho rilassato. Oltretutto ho passato una notte di inferno, perché non riuscivo minimamente a respirare. Dovevo respirare con la bocca aperta. Sentite il vento. Dovevo respirare con la bocca aperta, ma mi faceva malissimo la gola. E quindi ho passato una notte d'inferno. Peccato che questa luce la devo usare, perché sennò avendo la luce dietro è come se fosse controluce. Quindi io diventerai totalmente buio se non avessi una luce davanti. Ma questa luce fa sì che spani tutta la pelle. Quindi voi... Non vedete nulla, ma c'è due occhi abnormi. Ho delle borse sotto gli occhi che sono una cosa impressionante, va bene. Allora io sto facendo uno dei video ASMR più brutti della storia, va bene. Io continuerei con fare un po' di tapping. Allora questa qui è la crema che io devo usare per il viso. Come ho già detto in molti, molti video, io ho la rosacea, che è una patologia della pelle, insomma, che va assolutamente curata e tenuta sotto controllo, perché sennò ti deturba totalmente la pelle del viso, te la spessisce, ti riempi di bustole. E quindi, insomma, non va assolutamente presa sotto gamba. E io sto usando questa crema qui, questa qua. In realtà ne ho usate un casino di creme, ma adesso sto... Da quest'estate sto usando questa, perché me l'ha consigliata una dermatologa. Perché intanto è protezione 50, per chi ha la rosacea non può assolutamente prendere il sole. E a me va bene, perché non piace stare al sole, non mi piace il gatto. Però anche l'estate non è in giro, normalmente uno solo lo prende. Quindi questa è protezione 50. E perciò ti protegge il mio cellulare vibrato. Ti protegge... Ho una protezione parecchio elevata. In più, non unge per nulla la pelle. Io l'ho dovuta cambiare, perché usavo una crema che comunque mi ungeva la pelle. Però finché è inverno ci può anche stare, perché l'ha idrata anche. Ma quando è estate, cioè andavo in giro, mi colava olio dai pori della pelle, insomma. E quindi non potevo assolutamente andare in giro così. Perciò mi sono fatto consigliare un'altra crema e mi hanno dato questa qua. Che è assolutamente fantastica. Lo sto usando anche adesso che è inverno, perché te la lascia bella, morbida. Sempre idratata, ma non unta. A me poi si unge perché ho la pelle grassa di mio, però la crema non mi lascia la pelle unta. È fantastica, insomma. E spattendoci le dita, trovo che abbia un suono assolutamente strarilassante. No, l'ambulanza nel video ASMR non la si può sentire. Ecco, scusate, ho dovuto stoppare perché mi è stata l'ambulanza più lunga della storia. Cazzo, ci ho messo tre minuti a passare. Porca di una puttana. Che per il video ASMR che sto facendo non mi smettisco assolutamente. Lo chiamerò video ASMR, super trash, una cosa del genere. Non lo so, mi inviterò qualche cosa. Tanto c'è il vento. C'è il vento. C'è il vento. Oddio, penso che mi sta a prevenire da star mutire. C'è il vento. C'è il vento. Un altro suono che ho scoperto. essere gradevole. E lo scoperto in questi giorni perché non sto facendo altro che consumare qualcosa come quattro al giorno. sono i pacchetti di fazzoletti che, a mio parere, hanno un suo nome. che io trovo super rilassante. Questi video sono un po' diventati una droga per me. nel senso che, oltre a guardarmeli sempre, anche perché giornalmente, se ne trovano su youtube di nuovo un casino, no? ovviamente. Ehm, però adesso ogni cosa io prendo in mano, ogni cosa io abbia in mano, faccio sempre così con le dita per capire un po' lo suono che ha. Cioè, è proprio diventato, come dire, da assuefazione ed è assolutamente vero. Cioè, allora, l'ambulanza e i rumori del palazzo, dell'ascensore, ora ci si mette pure il cane, ma che cazzo? di video sto facendo ASMR, dai, cioè, ma è pazzesco. Non c'è un video che io riesco a fare seriamente se non quelli di cover, porca puttana. Che al momento non posso fare, chissà ancora per quanto tempo non riuscirò a fare sta cazzo di cover. Scusate, altro taglio, perché hai squillato il telefono, c'è davvero questo video, è una cosa oscena. Non so neanche se pubblicarlo, c'è davvero ancora una cosa di osceno. Vabbè, l'ho detto, lo intitolerò ASMR, whispering, tapping, trash. E poi, non so se vi ricordate, ma in una puntata degli assaggi di Danny e Stephen, io e la Stephanie abbiamo assaggiato delle caramelle a forma di pannocchia, che si avevano di mais, erano una cosa assolutamente orribile. Già davvero schifose. E però io ho ottenuto la confezione e sono queste caramelle qua. Ho ottenuto la confezione perché secondo me fanno un suono bellissimo. Caramelle al gusto di mais, ingredienti, zucchero, zucchero e sciroppo di mais. C'è un prodotto in Cina e vabbè lo sapevo a capire perché è pieno di videogame cinesi. Oltretutto per le donne è più semplice fare questi tipi di due qui perché, avendo le unghie lunghe, che possono davvero, come dire, io ogni tanto dico far suonare ogni tipo di cosa. Perché è vero, ogni cosa che noi teniamo in mano ha un suo suono fondamentalmente che è unico. e il fatto di avere le unghie, come dire, riesce più a scavare. Un po' come quando suoni la chitarra che ho il plettro o ho le unghie, no? E se non hai nel plettro o nelle unghie i suonaci diversi. Cioè è proprio... è un po' questo il discorso. I miei soldi faticemente, voi non fateci assolutamente caso. ... Grazie a tutti. In realtà in questo video qui volevo anche provare a mangiare qualcosa di particolarmente croccante, così che si sentisse proprio il suono della croccantezza di quando qualcuno mangia qualcosa di croccante. A me piace tantissimo anche perché il suono che noi stessi sentiamo quando stiamo mangiando qualcosa di croccante non è assolutamente lo stesso rispetto a quello che gli altri sentono. Perché noi lo sentiamo molto meno vattato, quindi è anche quasi fastidioso all'orecchio. In realtà se lo fanno gli altri noi sentiamo proprio questo suono bello caldo, bello corposo. E quindi volevo provare a fare qualche cosa del genere, ma come dire ho un po' di nausea e non vorrei che il mangiare qualcosa quando non me la sento mi portasse a vomitare. Vomitare vorrei evitare, visto che già questo video fa assolutamente schifo, è uno dei video ASMR più brutti davvero della storia di YouTube. Ma vabbè, insomma, freghiamocene, ho fatto anche di peggio, insomma, ve lo sapete. E quindi, insomma, vomitare in diretta, insomma, mi sembra davvero un po' tanto esagerato, anche perché, insomma, sì che è un video ASMR di merda, ma comunque un inglese può tranquillamente, o comunque uno straniero in generale, può tranquillamente rilassarsi guardando questo video perché non capisce un cazzo di ciò che sto dicendo, insomma. Voi che state capendo ciò che sto dicendo, farete tutto perché rilassarvi, suppongo, perché che cazzo c'è da rilassarsi questo video di merda, quindi... Ma vabbè, insomma, detto questo, direi che io a questo punto posso anche interrompere questo video qui, volevo arrivare a tipo 30 minuti, ma non stanno facendo altro che succedere cose, e telefono, e rumore, io che stanno notisco, che tossisco, il ciollare che vibra, che oltretutto stanno in tema trash. Quando vibra il ciollare, risentendolo in un video, sembra che io abbia appena sparato una scorra di quelle brrr, di quelle della matonna. E, ma, eh, no, in realtà no, già, lo direi apertamente, insomma, non mi farei alcun problema a dirlo. E, però no, assolutamente... Oddio, che video di merda. Vabbè, e niente, insomma, detto questo, direi che io posso chiudere qui il video. Allora, oggi è sabato, e quindi lo pubblicherò stasera questo video, augurando a tutti voi buon weekend, buona domenica, e spero un minimo, ma proprio un minimo, di avervi rilassato. Eh, domani, è domenica, penso che domani sera pubblicherò un video che ho fatto con la Stefanie, cioè, lo pubblicheremo, insomma, domani sera, lunedì, spero di riuscire a pubblicare qualche cosa. Se mi sarò un minimo ripreso, penso che farò il, la seconda parte del FAQ, mi risposte, eh, ma se sono ancora preso in questo modo qua, non penso che farò un video, perché preferisco rilassarmi il più possibile, così che mi passo il più velocemente possibile. Anche perché, in realtà, oggi, povericcio, avrei un lavoretto da fare, devo andare da un fotografo con il quale collaboro per fare un lavoro, ma visto che i miei non ci sono, e io mi sposto in moto, e la macchina ce l'hanno, i miei appunto, eh, avendo ancora la febbre, ed essendo ancora presissimo, non so sinceramente quanto mi convenga andare, anche perché penso che comunque non è un lavoro urgente, e quindi lo si possa rimandare alla settimana prossima, perciò, ora lo chiamo, lo sentirò, ma opterei per questo tipo di soluzione qua, perché, è ovvio che se non lavoro urgente, piglio, vado, chi se ne frega, perché potete condannarmi, insomma, qui pochi soldi, ma tutto va, però, insomma, viste le mie condizioni attuali, spostarmi in moto, col vento che avete sentito, oltretutto c'è oggi, e siamo anche a 6 gradi, quindi non è che poi faccia così caldo, insomma, va anche freschetto, poi in più va in moto, in più c'è vento, cioè, di tutto e di più, ti entra proprio nelle ossa, quindi sì, opterei per starmi nella casa, tranquillo, e vabbè, insomma, tutta questa diridera per dire, ecco, per dire che lunedì se starò meglio pubblicherò video, sì, lunedì non vedrete video nel mio canale, ma comunque se mai avviserò nella pagina mia e della Stefani, e se non metterete video, insomma, è proprio, sedia, poi quelli di sopra non fanno altro che, ma sentite, non fanno altro che spostare mobili, cioè, è impressionante, continuano, è impressionante, ma anche la notte, pigliano e spostano mobili, e infatti ogni instante mi cazzo, mi viene da andare su a fare una sforiata, quella della Madonna, mi dico, vabbè, insomma, evitiamo di farci riconoscere come al solito, anche se se lo meriterebbe, però è però, vabbè, insomma, è continuato, e va bene, e niente, basta, direi che a questo punto io possa salutarvi, vi abbraccio tutti, state bene, oltretutto, molti di voi mi hanno scritto che anche loro hanno l'influenza oltre me, quindi, come dire, a tutti quelli che hanno l'influenza, dico, riprendiamoci il prima possibile, poi ho letto da qualche parte che l'influenza fa anche bene, perché aiuta, come dire, al corpo nonno a scaricarsi un minimo, si creano più difese immunitarie, oltretutto perché ad adolescente aiuta a crescere la febbre, io questo non lo sapevo, ma pare che avere la febbre aiuti proprio a crescere in altezza, ora, chiaro che non si parla né di me né chi ha dai 23 anni in su, perché penso che fino ai 25 anni si possa crescere, ma è chiaro che uno tra i 13 e i 18, 19, anche 20, cresce, io in realtà ero un bambino di dimensione, di dimensione, di altezza, di statura normalissima, poi l'estate dei miei 15 anni, in un'estate, quindi in tre mesi, ho preso 30 centimetri, 30 centimetri in un'estate, ciò vuol dire che in un'estate ho dovuto cambiare più volte tutto l'abbigliamento, più volte le scarpe, i miei erano disperati, perché non mi stavano più niente, davvero da un paio di settimane all'altra, le scarpe mi stavano strette, i pantaloni mi stavano corti, mi stava tutto corto e piccolo, quindi ho dovuto in un'estate comprarmi, hanno dovuto in un'estate comprarmi un puttanaio di roba, perché sono cresciuto davvero 30 centimetri, non me lo scorderò mai, perché ero alla stessa altezza a inizio estate, ero alla stessa altezza di mia cugina, che è di tre anni più grande di me, ero alla stessa altezza sua a inizio estate, e a fine estate l'avevo superata abbondantemente, quindi già anch'io sono rimasto assolutamente sconvolto, vento, e infatti poi da lì in avanti sono sempre stato uno dei più alti rispetto alle persone della mia età, e infatti anche guardando i miei genitori mi chiedo davvero da chi io sia uscito, perché mia madre è, mia madre passa, insomma mio padre pure, per essere un uomo mio padre passa, perché non arriva, penso che sia 1,66, 1,67 insomma, quindi va piuttosto bassino, e mia sorella pure, sì, se si mette il tacco arriva più di 1,70, però non è questa gran altezza, e no 1,70 no, non penso che già arriva, vabbè insomma io scalzo così, sono 1,85, se mi metto delle scarpe un po' più spesso che arrivo anche a 1,87, 1,88, quindi certo dove calzo sono uscito, non lo so, nella mia famiglia non c'è nessuno che sia particolarmente alto, quindi sì, mio cugino che è alto più di 1,90 e basta, però non posso saper prestare mio cugino, solo a che cazzo c'entra mio cugino, va bene, come sempre sto divagando, comunque basta, ora chiudiamo questo video ASMR, il più trash del tubo davvero, e riprendiamoci tutti quanti e vi saluto, vi bacio e ciao!